Valdiviro Brezzi ha assunto una iniziativa insieme ad alcuni amici, quella di portare un autobus in un orfanotrofio in Senegal. Un spirito di Toscana, Maremma Dakar, Tesorobus, questo è il pulma che porterete in Africa insieme anche a materiali che serviranno poi alla scuola. Siamo rimasti coinvolti con un charity rally che farà sì che un mezzo che ci è stato donato dalla TM avrà una destinazione in un orfanotrofio per portare i bimbi a scuola e addirittura anche una scuola itinerante. Questa è una cosa bellissima, questo pulma partiremo per portarlo a destino e sarà un viaggio bellissimo. Quanti Maremmani saranno con lei? In 12 un gruppo di amici, di appassionati di Africa, di viaggi, ma tutti motivati e spinti da una grossa solidarietà perché questa cosa di portare un mezzo che da noi è superato nel momento in cui ci siamo prodigati per dargli un nome è venuto fuori una storia che era già scritta. Chiara del Soldato, tre anni fa aveva scritto un libro per i ragazzi raccontando la storia di un autobus che era allo sfascia carrozze e che viene recuperato, portato proprio a Dakar. Questa è la storia dell'autobus che visse due volte. In pratica è la nostra storia. Questa è la storia. Questa è la storia. Questa è la storia. Questa è la storia.